C'è una novità importante per le persone che hanno un tumore che viene curato con l'immunoterapia. La Commissione europea infatti ha appena autorizzato l'immissione in commercio di atezolizumam in formulazione sottocute. Atezolizumam è un farmaco immunoterapico che finora si somministrava per via endovenosa e l'approvazione della versione sottocute si applica a tutte le indicazioni di atezolizumam. Noi ne parliamo con un'esperta, la professoressa Silvia Novello dell'Università di Torino. Professoressa ci spiega meglio questa notizia, questa novità e perché è importante? Direi che nel contesto oncologico visto l'aumento delle indicazioni all'immunoterapia e l'aumento delle opzioni terapeutiche in generale avere un farmaco che non è innovativo di per sé ma che vede una nuova modalità di somministrazione sicuramente è una grande notizia nel contesto oncologico dove questa tipologia di somministrazione non è del tutto nuova ma sicuramente è nuova per l'immunoterapia. Professoressa, come verrà la somministrazione di questa formulazione sottocute? In cosa si differenzia rispetto a quella per via endovenosa? La somministrazione sottocute avviene un po' come altri farmaci che vedono questa possibilità non soltanto nell'ambito oncologico. Vedi per esempio la somministrazione di insulina o alcuni farmaci che lavorano nel contesto dell'ormonoterapia invece in ambito oncologico ma la grossa differenza direi che sta soprattutto nelle tempistiche visto che la somministrazione sottocute dura per quello che è lo studio sette minuti ma in in media sono quattro minuti di somministrazione verso quello che è il tempo di somministrazione da scheda tecnica di Atezolizumab che è di 40 minuti quindi la grossa differenza sicuramente sta nella tempistica di somministrazione. Dunque professoressa che cosa cambierà per i pazienti con l'arrivo di questa novità? Lei è a capo anche di un'importante associazione di pazienti, UALCE. Quali sono dunque per i pazienti i vantaggi pratici della formulazione sottocute di Atezolizumab? Beh sicuramente la tempistica che abbiamo già sottolineato quindi il fatto che si passi da una somministrazione di 40 minuti circa verso 4 minuti più o meno che è la tempistica di somministrazione sottocute ma direi che soprattutto per loro è anche un impatto psicologico diverso perché la somministrazione sottocute sicuramente ricorda molto meno quella che è la cura tipica di di una malattia neoplastica e quindi io direi in particolar modo l'impatto psicologico oltre che da un punto di vista organizzativo. Non dimentichiamoci che questi pazienti molto spesso riescono a rimanere nel contesto sociale e familiare e impegnare meno tempo per quella che è la loro cura è indubbiamente vantaggioso. Ecco appunto dal punto di vista organizzativo quali sono i vantaggi per l'ospedale anche sempre per l'ospedale dal punto di vista clinico? Indubbiamente di nuovo l'aumentare delle fortunatamente delle aspettative delle prospettive di vita dei pazienti delle opzioni di cura hanno fatto sì che negli ultimi anni la necessità di avere sempre più spazi e una turnistica allargata nei dei hospital oncologici da un punto di vista organizzativo in molti casi è problematico per cui avere dei farmaci e quando si parla di immunoterapia si parla di una grande parte di pazienti che possono essere trattati con questo trattamento ed in particolar modo parlando di atezolizumab significa poter risparmiare consentitemi il termine una poltrona di dei hospital perché nel caso della somministrazione sotto cute sicuramente io non devo impegnare per alla fine un'ora perché i tempi di somministrazione endovenosa sono di 40 minuti ma l'impegno della poltrona è di un'ora quindi io risparmio l'impegno di quella poltrona a vantaggio di un altro paziente e di un'altra tipologia di trattamento quindi sicuramente da un punto di vista organizzativo per quello che è il sistema sanitario oggi è indubbiamente vantaggioso. Ecco ma la formulazione sotto cute è comparabile a quella endovena dal punto di vista dell'efficacia della sicurezza abbiamo dati a riguardo? Beh direi che tutte le volte che si parla di una novità nel contesto oncologico l'importante è avere questa novità con il supporto di dati scientifici in questo caso in particolar modo facciamo riferimento allo studio che vedeva la randomizzazione all'incirca di 300 pazienti con un disegno una randomizzazione 2 a 1 della somministrazione endovenosa verso la somministrazione sotto cutanea il cui obiettivo primario era l'esposizione al farmaco cioè andare a vedere che effettivamente tutti i pazienti ricevessero la quota adeguata e terapeutica di trattamento. L'obiettivo primario è stato raggiunto e unitamente a questo in termini di tempo alla progressione quindi progression free survival in termini di risposta i dati di efficacia sono sovrapponibili così come anche il profilo di tollerabilità e vi compreso la percentuale di pazienti che hanno discontinuato il farmaco e anche la percentuale di pazienti che hanno visto la comparsa di effetti collaterali quindi da un punto di vista di efficacia e da un punto di vista di safety abbiamo una pressoché sovrapposizione delle due tipologie di trattamento da uno studio che era uno studio disegnato con un disegno statistico di non inferiorità.